Falegnameria Baccaro Giovanni, da noi il lino prende forma per diventare un prodotto finito. Le nostre proposte, porte classiche in massello a partire da 350 euro, stile moderno da 180 euro, infissi a partire da 355 euro metro quadro. Acquistare in fabbrica è sempre conveniente, pertanto il rapporto qualità-prezzo è insuperabile. A Camporeale, Falegnameria Baccaro Giovanni, strada statale 626, Palermo-Shaka. A Camporeale, Falegnameria Baccaro Giovanni, strada statale 626, Palermo-Shaka.